Benvenuto su Italiando Storie, il podcast di storytelling in lingua italiana per arricchire il tuo italiano e la tua mente. Avete mai sentito parlare di Paolo e Francesca? Sono certa di sì. Il sommo poeta Dante Alighieri li ha resi famosi per sempre, celebrandone la storia nella sua grande opera, la Divina Commedia. Dante infatti incontra questa coppia di innamorati nel suo viaggio all'inferno. E perché mai una coppia di giovani innamorati se ne stava all'inferno? Perché Paolo e Francesca erano adulteri e l'adulterio era considerato all'epoca un peccato gravissimo. Ma cosa significa adultero? Adultero è quella persona che tradisce il marito o la moglie. Adulterio è infatti un sinonimo della parola tradimento. Ora vediamo le parole che ascolterete nella storia di oggi. La prima parola è essere in debito. Sei in debito con qualcuno se questa persona ha fatto qualcosa per te, ti ha fatto un favore e tu devi dare e o fare qualcosa in cambio per ripagare questo favore. Zoppo. Una persona zoppa cammina in modo difettoso perché ha una qualche imperfezione o infermità, malattia, agli arti inferiori, alle gambe. ingannare. Io ti inganno se ti faccio credere una cosa per un'altra. Ti dico una cosa non vera facendoti credere che sia vera, che sia la verità. C'è un famoso gioco per bambini che si chiama nascondino, in cui ognuno si nasconde alla vista dell'altro. All'improvviso. Un evento succede all'improvviso quando è inaspettato, quando è una sorpresa. Trafitto. Trafitto è il participio passato del verbo trafiggere. Trafiggere. Trafiggere è un verbo per indicare quando si ferisce un corpo, attraversandolo tutto, da parte a parte. Si può trafiggere con una spada. Ma ora mettetevi comodi e preparatevi ad ascoltare la storia di oggi. Paolo e Francesca. C'era una volta un re. Questo re si chiamava Guido ed aveva una figlia bellissima di nome Francesca. Re Guido era stato aiutato da un ricco proprietario terriero di nome Giovanni ed insieme avevano sconfitto il nemico. Re Guido era quindi in forte debito con questo ricco signore. Doveva dargli qualcosa in cambio per l'aiuto ricevuto. Re Guido decise così di dargli il suo dono più prezioso. Dare in moglie a Giovanni la sua amata figlia Francesca. C'era però un problema. Il ricco signor Giovanni era brutto 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 eppure zoppo. Veniva infatti chiamato Giovanni lo zoppo. Francesca sognava da sempre di sposare un uomo bello, buono e intelligente. Non sposerà mai volontariamente lo zoppo, pensò suo padre. Re Guido decise quindi di ingannare la propria figlia, presentandole e facendole credere di sposare il fratello di Giovanni, Paolo, detto il bello. Paolo, oltre ad essere incredibilmente bello, era anche di animo buono, divertente e di buone maniere. Chiaramente Francesca accettò subito di sposarlo. Purtroppo, quando si accorse dell'inganno, era già troppo tardi. Ormai aveva accettato di sposarsi. Francesca sposò quindi Giovanni lo zoppo. Fu un matrimonio molto triste. Di lì a poco arrivò anche una bellissima e dolce bambina, Concordia. Francesca, però, nonostante l'immenso amore per la figlia, si sentiva molto infelice e non smetteva di pensare a Paolo il bello. Lo aveva ormai perdonato per l'inganno ricevuto. Paolo e Francesca, quindi, cominciarono a vedersi di nascosto, nelle stanze segrete del palazzo. I due trascorrevano insieme poche ore di felicità, parlando e leggendo libri che narravano di cavalieri e dame. Un pomeriggio stavano leggendo insieme una storia di amore. In particolare la parte in cui i due protagonisti della storia stanno per scambiarsi un bacio. Paolo e Francesca, coinvolti dal romanticismo del momento, si avvicinarono e stavano per scambiarsi anche loro un bacio, quando all'improvviso qualcuno entrò violentemente dalla porta. Era Giovanni lo zoppo, fuori di sé dalla rabbia per essere stato tradito dalla moglie e dal suo stesso fratello. Giovanni prese la spada per colpire Paolo, ma Francesca si mise davanti a Paolo per proteggerlo, e furono trafitti entrambi. Paolo e Francesca vagano ancora oggi insieme, abbracciati nell'inferno, trascinati dal vento. Fine Ti è piaciuta la storia di oggi? È un grande classico. Secondo te, qual è la morale della storia? Hai domande o vuoi praticare il tuo italiano con me? Mi trovi al link qui sotto. Ciao! 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 Grazie a tutti.